La peste suina è arrivata anche nell'Aquilano. Il Ministero della Salute, a seguito del ritrovamento a Borgovelino nel reatino di una carcassa di cinghiale sulla quale è stata riscontrata l'infezione, ha delimitato la zona a rischio e ha incluso anche il comune di Cagnano-Miterno. Si tratta dell'unico comune abruzzesi ad avere un provvedimento di questo tipo, con il sindaco Iside Di Martino, costretta ad emettere un provvedimento per contenere e contrastare la diffusione della peste suina, stop ad arrostate, picnic e altre eventi che possono determinare assembramenti, quindi, nelle zone agricole e rurali che vanno da Cino alla Valle dei Ladri sino a Cascina. Il provvedimento invita i cittadini a non avvicinare alimentare i cinghiali, a non lasciare residui di cibo e a fare la raccolta rifiuti, il base al calendario comunale e inoltre all'interno delle aziende di allevamento massima attenzione, recintando l'area dei locali, contattando in caso di mortalità di un animale la ASD e adottando tutte le altre precauzioni igieniche del caso. Il comune ha già organizzato la ricerca di eventuali carcasse di cinghiali con la polizia provinciale, che assieme al servizio veterinario ASD e ai carabinieri forestali hanno già perlustrato per diverse volte la zona, per il momento nulla di strano. La peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali, è altamente contagiosa e spesso mortale per gli animali, ma non è trasmissibile agli esseri umani. Intanto il comune di Cagnano ci rientra marginalmente perché è ricompreso per circa il 20% del suo territorio, quindi la parte veramente marginale, con la zona di restrizione del cinghiale trovato a Borgovelino. Stiamo controllando la popolazione di cinghiali che risiede in quel posto per il riscontro della sorveglianza, cercando quindi carcasse di animali da sottoporre da accertamenti per la ricerca del virus della peste suina africana. È una malattia che non ammala l'uomo sicuramente, ma è una malattia che dà danni economici. In che senso? Sostanzialmente ammala anche i suini e è preoccupante perché l'Italia vanta un livello eccezionale di produzione di salumi di alta qualità e questo ci crea problemi con gli scambi con altri paesi che acquistano questi prodotti. Comunque al momento non desta particolari preoccupazioni sul territorio e la situazione? Al momento no, stiamo cercando, facendo appunto dei controlli, non abbiamo nulla al momento che ci faccia pensare al peggio, per cui continuiamo con i nostri controlli e al solito speriamo bene.